Allora, come prima cosa andiamo a riscattare queste monete, adesso non so che missioni fare, ce ne sono tanti, c'è rapina, footbrawl, raffagemme, sopravvivenza in due, facciamo sopravvivenza in due. Vinci tre battaglie, abbiamo ancora, gioca ancora, tra l'altro, ma anche cinque battaglie squadra, vabbè. Il personaggio, Jakey, Rinkyo, Hiv ragazzi, usiamo proprio Hiv mi sa, proviamoci. Eccoci in questa partita, speriamo che questa volta ci vada bene e non come nelle scorse partite, abbiamo fatto cagare i mando a fome, soprattutto i nostri compagni di squadra che non sapevano nemmeno come giocarci a questo gioco. Allora, cominciamo, qui ci sono persone che ci vogliono attaccare, cominciamo così. Ok, 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 prima kill, fatto. Possiamo uccidere anche questo? Possiamo ucciderlo? No! Non ci deludere, compagni di squadra, non ci deludere. Qua sei? Scappa via! Siamo rispaurati qui, ci hanno ucciso subito, immediatamente. Bravissimo, un compagno di squadra degno di questo nome. Prendi il power up, tanto io non ho più speranze, vai a uccidere tutti. Abbiamo vinto così, se questa partita sarà fortunata come quella scorsa, perché noi abbiamo fatto uno schifo di più. Vediamo se quest'altro compagno di squadra è bravo come quello, magari. Allora, qui ci hanno fottuto tutte e due le casse. Vabbè, è meglio non commentare quello che ho appena visto, che è quello che è appena successo, più che altro. Facciamo finta che non è successo niente. Abbiamo cominciato ora la partita, facciamo finta che è così. E andiamo a battere i nostri nemici. Oddio Alberto, non è possibile! In questo modo ne battiamo centomila nemici, non uno, centomila. Non è possibile, è la prima volta che sento una cosa del genere di Alberto, non è mai stato in mezzo a queste cose. Fai bene tu che rimani nascosto, ma con il cazzo, se non ti fai ammazzare però. Allora, qui siamo nella cacca, siamo proprio nelle pezzi più profondi. Ecco qua, non riusciamo proprio a giocare, è impossibile. Gioca da solo, fai del tuo meglio, che ti devo dire? Prendi tutti i power up, uccidilo! Vabbè, non è che c'è niente da commentare qui, è successo quello che non doveva succedere. Cominciamo subito con la cassa vicino, questo è un buon segno, questo è un buon segno perché vuol dire che questa partita la dovremmo vincere. Che l'abbiamo ucciso, l'abbiamo ucciso il suo compagno di squadra. Come hanno ucciso anche il nostro compagno di squadra. Ok. Che non sarà un automa, sarà una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Affanculo! Affanculo! V-A-F-F-GULO! È schifo! Sonzo! Dai, un colpo di mangava! Siamo esponati di nuovo con la cassa vicino, spero che questa volta veramente ci fosse fortuna questa cosa. Ok, la fetta della ninja è andata a fanculo. Missioni di gioco ancora di Blood Stars le abbiamo finite, porca di quella pu... Adesso pensiamo a fare altre missioni... Ancora ce ne sono! Ma come, le avevo completate, ve lo giuro! Ancora ce ne sono altre 15, c'è altre 5 che ne devo fare. Ho completato solo quella di 10, io non pensavo che ce ne fossero altri 5. Ma in ogni caso è meglio cambiare personaggi. Mettiamo Brock, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con questo. Allora, cominciamo così vicino alla cassa. Anche loro hanno cominciato vicino alla cassa. Questo è quello che ho capito. Vai, vai, vai che lo uccidiamo. Vai, bastardo! Sì, ce l'abbiamo fatta! No! Sì, ce l'abbiamo fatta! È riuscito a scappare questo, non ci posso credere. Un colpo! Un colpo! Sì! Sì! Questa è una partita quasi perfetta! Dov'è il tuo amichetto? Dov'è? Dov'è il tuo amichetto? Si è volatilizzato questo qua! Non lo troviamo proprio! È incredibile! Dov'è nascosto! Ok, abbiamo vinto! Questo è l'importante! Finalmente ce l'abbiamo fatta a vincere una partita! Bene, cominciamo con due casse questa volta! No, questa è andata male! Ok! Dobbiamo solo uccidere il suo compagno di squadra! Cosa sta succedendo? Cosa lancia questo? Come avete potuto vedere l'abbiamo fatto cagare anche questa volta! E il fatto che abbiamo vinto una partita è stato solamente un caso! Dai che questi li possiamo battere! Li posso battere forse perché Ok! Squadra battuta! Ok, 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 ok! Attenzione! Attenzione! Perché forse forse questa è una partita buona come quella di prima! Attenzione! Attenzione! Non avvicinatevi lì perché guarda! Dove è finito adesso questo? E' respawnato quello di prima che ho ucciso però vabbè adesso è senza power up però Ma che c***o allora te lo sono Ucciso Noi! 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 Grazie.